buon pomeriggio stufisti eccoci qua all'ennesimo esperimento di lucia risparmiare come state tutto bene ma ciao a tutti allora niente qui sul mio tavolo o da farvi vedere due pietre allora questa sarebbe la vedete la pietra basaltica la pietra olare ok ok questa invece è una pietra lo chiamano pietra luserna vedete luserna perché è una pietra con già tutte dei dei delle particelle di ferro al suo interno per quello che è così penso che sia stratificata ok ed è utilizzata per fare le pavimentazioni fuori insomma ve l'ho fatto vedere cioè fuori il pavimento via ora vi faccio vedere ok questo pavimento qui esterno sono pavimentazioni da esterno allora io cosa ho fatto l'ho utilizzata per fare una prova un pezzetto piccolo piccolo lo vedete ho messo un pezzetto piccolo all'interno della stufa pezzettino piccolo insomma piccolo abbastanza e ho messo proprio un legnetto vedete che non c'è quasi più niente dentro alla stufa rimasto sto pezzettino qui per fare una prova perché è una pietra come come resiste molto resistente al calore e allora ho visto che togliamo il flash il forno è arrivato a quasi 200 200 la ghisa della camera di combustione non si è dilattata quasi per niente ora andiamo mettere a fuoco un po e ora vediamo le temperature la temperatura ma proprio due legnetti e e arriva 158 150 q 165 proprio in centro 69 ok vediamo canna fumaria 91 72 70 ok quindi del caldo sulla canna fumaria non ne abbiamo praticamente io ho visto che proprio con due legnetti cioè proprio due si ha riuscì sono riuscita ad avere insomma molto caldo perché una pietra che cioè trattiene molto il calore quindi ovviamente il caldo del del legno cioè lo trattiene lo riflette lo riflette verso il combustibile quindi lo asciuga più in fretta non ha necessità non del tempo di asciugatura cioè è molto più veloce l'asciugatura del del combustibile quindi brucierebbe tenderebbe di bruciare un po pochino più in fretta però vedo che arriva in questa fase ora apriamo qui per farvela vedere dentro vedete come questa è la pietra che arriva fino quasi fino in fondo questo legnetto è un'ora sarà un'ora un'oretta che l'ho messo lì c'è un'oretta e ancora lì ancora lì un legnetto sottile cioè lo vedete c'è una perché infatti avevo paura della forte dilatazione della ghisa invece no pensavo peggio adesso riprovo mettere un altro legnetto a vedere come si comporta ok eccoci qua quindi ho fatto la prova tra le due pietre questa sarebbe la mia bistecchiera per tenere in caldo insomma la insomma la fiorentina oppure il vassoio quando però anche questa vedo che è molto 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 resistente come come è molto più pesante molto più pesante rispetto alla basaltica la basaltica è molto più leggera invece questa contenendo il ferro infatti sono stata molto attenta alla ghisa a non spaccarla l'ho messo piano piano stamattina e ho fatto le prove come vi chiedo perché per piacere di non eccoci qua vi vedete meglio è troppo luce e sono solo i miei esperimenti quindi è un giocco gli occhiali da soli se anche i miei esperimenti quindi li faccio io e bisogna che insomma non non fate come me io avviso sempre perché io non voglio che sia colpa mia che le vostre stufe si danneggiano e sono io sono sono prove che faccio ve li faccio vedere anche a voi e niente direi che come resa cioè aver 200 gradi di forno con un legnetto in un'ora cioè il forno si è scaldato subito perché ovviamente la pietra si è scaldata subito però c'è il legno si è carbonizzato e adesso sta sta bruciando dopo un'ora ecco dopo un'oretta poverino si è incendiato quindi non lui piano piano si è diventato un po un carboncino ok ho detto mi piace se vi piacciono i miei video e non copiatemi eh non copiate perché cioè ne vedo ne vedo e ne sento tante quindi non non fate come me cercate di non emulare non non copiare perché magari dopo vi fate male e prendetelo come un divertimento insomma guardate che sperimenti fa se li fa vedere anche anche a noi sono esperimenti che mi piace farli quindi magari fateli anche voi delle stufe vecchie per provarle e adesso non vedo l'ora che viene caldo che così ne ho una fuori che l'avete vista da fuori che voglio provare alcune cosine anche fuori e io vi saluto e ci vediamo al prossimo esperimento ciao a tutti ciao ciao